Il Palio Sono contento che quest'anno il Palio sia leggermente diverso Perché il Palio sostanzialmente è fondamentalmente una gara, una corsa Poi c'è tutto il contorno e tutto il resto Quest'anno sarà ancora più sentita perché probabilmente lo spirito delle varie nazioni dell'Europa Che partecipano a questa corsa renderanno ancora più competitiva questa manifestazione Quindi sarà molto sentita e speriamo che il pubblico riceva questo invito e venga a vedere questa manifestazione Adesso noi ogni nazione estrae il borgo di Alpignano associato alla nazione Un bastoncino Uno Allora Montana è associato a Dove è Isabella? Borgo Sassetto Mamma mia Borgo Vecchio No Borgo San Giacomo è il mio Beh io penso che è molto facile sapere già che sarà la colore La colore sarà il rouge E quindi Borgo Vecchio Allora 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.